Ciao Simone, hai visto che begli alberi? Sì, mi piacciono soprattutto la cielo con pezzo in un tanno nero. Perché? Anche se non sono molto alti, mi piacciono perché sono caratteristici e hanno tutto il parco più bello. Belli, sì, ma a me piace di più salire su piangente, perché con lo suo chiamo particolare rende il parco più bello. Grazie a tutti.